Ciao a tutti e benvenuti su Plenoctis. Io sono Rob e oggi voglio proporvi la mia recensione di Tenet. La scorsa settimana avevo proposto una spiegazione che si focalizzava sulla struttura principale, sul concetto principale del film che permetteva di spiegarlo tutto e che trovate qui sopra, mentre per questa recensione affronteremo prima una parte non spoiler in cui vi dirò le mie opinioni riguardo il film e poi verso la fine ci concentreremo in una parte spoiler in cui vi potrò fornire le indicazioni precise su le sequenze e sui punti particolari del film che mi sono piaciuti e quelli che non mi sono piaciuti per niente. Cominciamo subito. Come vedrete alla fine del video, alla fine a Tenet ho dato la sufficienza, tuttavia mi ritengo abbastanza deluso dall'esperienza cinematografica e dal film in sé perché nonostante abbia tutte le caratteristiche dal punto di vista visivo per essere uno di quei film di Nolan che ti lascia onestasiato alla visione e in realtà poi dal punto di vista della sceneggiatura e anche della regia mi ha deluso particolarmente. Partiamo dal dire che il montaggio è fin troppo frenetico e soprattutto nella prima ora salta da sequenza a sequenza senza lasciare il tempo allo spettatore di comprendere effettivamente cosa sta vedendo e di comprendere causa e conseguenza delle azioni che vengono messe in campo dai protagonisti. Quindi questo montaggio è fin troppo frenetico e soprattutto manca all'inizio un background, una spiegazione delle motivazioni dei protagonisti, delle motivazioni che spingono questi personaggi ad agire in quella maniera e gli stessi dialoghi sembrano fin troppo vaghi, con fin troppo poco senso, fin troppo legati alla dimensione di spiegazione complessiva, alla dimensione sovrastrutturale del film, come se Nolan ci volesse dire attraverso i dialoghi di che cosa parla il film nella sua complessità e senza però invece far dire qualcosa di significativo per le motivazioni, per il senso effettivo all'interno del film. Quindi se effettivamente come è vero è stato detto che questo può essere annoverato come un Bond movie, in realtà poi dal punto di vista narrativo è un Bond movie senza James Bond e soprattutto un Bond movie di scarsa qualità dal punto di vista della sceneggiatura. Quello che si salva sono certamente le scene d'azione, è molto bello vedere queste scene di inseguimento con le macchine, una parte che va all'indietro nel tempo e l'altra parte che invece si muove in avanti, alcune sequenze sono piuttosto di impatto come quella dello schianto dell'aereo, però tutta questa efficacia visiva non trova poi riscontro nel senso effettivo del film e non trova riscontro nella volontà di narrarci una storia che sia sufficientemente complessa. Tutti i personaggi, compresi anche i protagonisti ma soprattutto l'antagonista, è talmente stereotipato che sembra davvero che Nolan abbia scelto di costruire tutto il film sull'idea, su questa idea del tempo, su questa idea strutturale dell'entropia inversa per poi però non decidere di scrivere una sceneggiatura di qualità e questo è il problema fondamentale senza poi andare a vedere le scene in particolare, cosa che faremo tra poco. Passiamo quindi alla parte spoiler in modo tale che io possa effettivamente fornirvi la mia opinione sulle scene precise e possa citare parti del film senza preoccuparmi del fatto che non sia stato visto da qualcuno, quindi se non avete visto il film non continuate a vedere ma risaltate alla fine per vedere semplicemente il voto, adesso inizia la parte spoiler. Innanzitutto bisogna fare una piccola spiegazione riguardo la struttura del film. Tutto il film si risolve tramite il concetto di loop, tutto il film è strutturato secondo il loop come si comprende alla fine, tuttavia Nolan si preoccupa di fornire inizialmente una sorta di spiegazione scientifica basata sul concetto di entropia inversa, che è un concetto della fisica quantistica che però non ha trovato mai finora per motivi che sono legati al reale, un'applicazione appunto nella realtà. Quindi Nolan si serve del concetto di entropia inversa soltanto come retroterra scientifico per cercare di basare il tutto su qualcosa di verosimilmente scientifico, cosa che però vedremo poi porta molti problemi all'interno del film. Quindi posto che la spiegazione complessiva della struttura del film è quella del loop in cui possiamo comprendere benissimo il fatto che il protagonista alla fine del film torna indietro nel tempo muovendosi all'indietro e dà inizio effettivamente alle operazioni facendo già parte dell'organizzazione visto che è tornato indietro dal futuro, tutto quanto è racchiuso all'interno di un grandissimo loop nel quale all'interno ci sono nuovamente altri loop. Qual è però il problema che noi incontriamo fin dall'inizio? È proprio il concetto di entropia inversa. Già dall'inizio noi vediamo che lui viene istruito dalla scienziata sul funzionamento di questa entropia e sul funzionamento degli oggetti invertiti. Una questione che già è critica è il fatto che la pistola che lui utilizza per raccogliere i proiettili dalla lastra di pietra che ha di fronte avrebbe dovuto, per il concetto di loop, averli sparati quei proiettili nello stesso istante in cui lui li raccoglie, proprio perché ci deve essere un perfetto bilanciamento fra le cause che danno origine al fenomeno e le sue conseguenze, come abbiamo visto per esempio succedere con la scena dell'incontro fra i due protagonisti, sono le stesse persone che si confrontano, lui capisce che i proiettili che aveva visto entrando sparati sul vetro erano stati poi effettivamente sparati dallo scontro fra loro due, che avviene con uno che si muove in direzione invertita e con l'altro che si muove in direzione corretta. Quindi già quando vediamo la scena della pistola iniziale con la scienziata, già qui sorgono dei problemi di funzionamento del loop applicato al concetto di entropia inversa, ma poi Nolan sembra applicare questo concetto di entropia invertita in maniera piuttosto casuale e arbitraria, a volte prendendo il soggetto nella totalità, quindi facendo in modo che il soggetto possa muoversi all'indietro totalmente e interagire solo parzialmente con la realtà in direzione invertita, e poi fa in modo che il soggetto in realtà subisca questa inversione solo in una porzione, ad esempio, del suo corpo, come possiamo vedere con la ferita di Katte. Qui sorge il problema. Innanzitutto se, seguendo poi quello che effettivamente viene espresso dalla fisica quantistica, l'inversione è un'inversione di particelle complessive, quindi per quanto riguarda un organismo tutte le particelle si muoverebbero in maniera invertita, quindi tornando a uno stato precedente, invece di seguire un avanzamento di stato, per un organismo significerebbe invertire tutti i processi biologici, ma invertire tutti i processi biologici significerebbe far smettere di esistere l'organismo stesso, quindi già qui non si capisce bene come l'organismo possa effettivamente muoversi o sussistere. Oppure, prendendo per esempio soltanto la ferita, non si capisce come effettivamente allora una persona che ha la possibilità di muoversi in maniera invertita dovrebbe riuscire a sopravvivere a una ferita di quel tipo perché la ferita si margina perché la ferita ha un procedimento di inversione a sé per cui riesce a ritornare a uno stato precedente e quindi non ferirsi. Questa cosa non è molto chiara e non è chiaro nemmeno ad esempio quando una scienziata dice al protagonista che se si fosse incontrato con il suo del passato ci sarebbe stata un'esplosione, sarebbe stata un'annichilazione fra particelle contrastanti, cosa che poi non avviene. Questo perché di fatto non dovrebbe avvenire realmente, ma sempre su base teorica su questioni che Nolan poi non si preoccupa di approfondire ed è questo uno dei limiti che poi ponevo inizialmente nella parte non spoiler, cioè il fatto che il film si muove velocemente nonostante ci siano le spiegazioni complessive della sua struttura e che si comprendono benissimo con il loop, in realtà non c'è mai una spiegazione precisa delle cause che stanno in mezzo e del funzionamento effettivo di questa pseudofisica che lui applica. Perciò noi possiamo tranquillamente asserire che la macchina funziona semplicemente come invertitore, cioè permette il movimento indietro, quindi semplicemente la struttura è un loop con l'idea geniale, questo sì è abbastanza geniale perché va ad aggiungere qualcosa al concerto di loop, del movimento all'indietro. Quindi una cosa positiva di tutta questa struttura fantascientifica è la questione del movimento all'indietro, però poi a livello strutturale è un loop e tutta la parte che invece riguarda l'entropia inversa non trova una vera e propria applicazione effettiva nemmeno nel film. Allo stesso modo nel momento in cui abbiamo la scena dell'esplosione del veicolo con la sua capacità di rimanere vivo perché va in ipotermia, non si comprende bene perché lui che è lui invertito dovrebbe provare un'esperienza termica invertita e cioè con un'esplosione a fianco lui automaticamente dovrebbe diventare ghiacciato per compensare questo squilibrio. Dovremmo effettivamente presupporre che nella realtà normale quando c'è uno scambio di calore molto alto come quello di un'esplosione o come quello di un incendio in realtà un'altra parte dell'esistenza effettivamente si ghiaccia, ma è tutto molto aleatorio e non realmente spiegato e sembra sempre tutto portato avanti affinché si riesca a far sopravvivere il protagonista, si riescono effettivamente a vedere gli effetti di quello che pseudo-scientificamente è stato detto. Il film alla fine si riesce a seguire, il problema non è comprendere poi cosa succede al di là del fatto che veramente una volta spiegato il concetto di Luca rimane comunque quello. Il problema è andare a vedere se effettivamente nelle sue parti interne funziona e secondo me non funziona. Per questo alla trama purtroppo devo dare un voto assolutamente negativo, nonostante poi, ripeto, l'intreccio bene o male funziona e non posso dare un voto positivo, quindi per forza negativo, anche al montaggio e alla struttura dei dialoghi. Come dicevo nella parte non spoiler, tutto il film inizialmente si preoccupa di scaramentarti in questa sequenza di scene che sono velocissime, senza il tempo di farti capire dove si trovano i personaggi e perché si trovano lì, senza dialoghi che siano realmente significanti. Sembra quasi che Nolan si preoccupi di dirci che si sta parlando di fisica, si sta parlando di tempo, si sta parlando di entropia, e i personaggi parlano fra loro senza però esprimere una reale motivazione. E quindi non è soltanto una mancanza di componente emotiva, perché questo c'è sicuramente, però se prendiamo un film come Dunkirk, che sicuramente è ambientato durante un momento storico e quindi ha una struttura narrativa per forza vincolata, lì pure non c'è tantissimo di emotivo. Però il film a livello narrativo, a livello strutturale funziona. Anche qui mi sarei aspettato di vedere, anche volendo decidere di non implementare una storia melenza, una storia drammatica fino allo sfinimento, come può essere ad esempio che non è allo sfinimento, che è piuttosto buona, quella di Inception, mi sarei aspettato però comunque una struttura narrativa seria, solida. E lo dico perché se poi andiamo a prendere la parte finale del film dove abbiamo il disvelamento del loop e il disvelamento del significato del loop, la scena finale con il protagonista e Neil, che capiscono di conoscersi da un sacco di tempo, perché il protagonista è tornato nel passato e l'ha conosciuto molto prima a Neil, è abbastanza emotiva. Ma è emotiva solo se effettivamente uno ha compreso il concetto di loop e le sue implicazioni. Ma una storia di amicizia, come è quella loro, che però si capisce soltanto alla fine, meritava tutta una spiegazione, tutta una serie di giochi, anche di regia. Bastavano alcuni sguardi, bastavano alcune indicazioni, alcuni flash anche dal punto di vista di immagini che potevano suggerire, che loro si conoscevano già da prima, per abituare lo spettatore e far capire poi nel finale tutta l'implicazione del loop e tutta l'implicazione del fatto che se tra due personaggi uno ha vissuto tutto il tempo avendo conosciuto l'altro che è tornato indietro nel tempo e l'altro no, c'è una differenza ma entrambi, comprendendo il concetto di loop, possono capire di essere stati realmente amici. Ma solo capendo effettivamente la costruzione del film si capisce il valore emotivo della sequenza, che però non c'è e quindi per forza di cose questa non può essere una cosa positiva. Infine, ultima cosa che voglio dire, è che anche dal punto di vista della fotografia, se pensiamo a Inception e alla fotografia di Oltremano Tema, che è stata bellissima in Inception, qui vediamo quasi un lavoro frettoloso, quasi un lavoro fatto per fare in modo che poi il montaggio sia agevolato nel mettere in campo queste scene rapidissime e purtroppo non riesce nemmeno lì a essere veramente bello. In definitiva ci troviamo di fronte sicuramente a un buon movie, ma un buon movie senza anima, costruito da Nolan soltanto sull'idea affascinante della fisica dell'entropia inversa, che però poi non riesce a sostenersi da solo grazie al fatto che ha un montaggio totalmente troppo rapido, dei dialoghi troppo evasivi, troppo evanescenti, mai calati all'interno realmente delle motivazioni dei protagonisti, manca l'empatia nei loro confronti e tutta la struttura, anche scientifica, in realtà crolla se poi si pensa, come dicevo precedentemente, alle applicazioni surreale che dovrebbe avere, ad esempio per quanto riguarda la questione dell'ossigeno, per cui non si capisce quanto della realtà io soggetto invertito vado effettivamente a prendere, quanto potere da agire io ho effettivamente, fin dove si spinge la mia possibilità di far evolvere gli oggetti verso la loro direzione normale oppure invertirli. È tutto non spiegato, tutto per mettere in campo questa sorta di parco giochi che, se vogliamo lasciarlo solo come parco giochi, fa sì che il film rimanga abbastanza bello da vedere, ma null'altro. E quindi il mio voto per Tenet è 60 su 100 e non c'è molto altro da dire. Il video termina qui, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, nei commenti però fatemi sapere voi cosa ne pensate, soprattutto se vi è piaciuto. Ho visto che ci sono stati molti pareri contrastanti fra chi lo ha definito scandaloso, bruttissimo, il peggior film di Nolan, che tra valente effettivamente lo è, e invece chi lo ha definito un capolavoro. E noi ci vediamo in un prossimo video.